Il giornalista modicano Paolo Borrometi, di recente minacciato di morte dalla mafia, è stato ricevuto da Papa Francesco. Borrometi, collaboratore dell'Agenzia Italia e presidente di Articolo 21, ha raccontato su Facebook le emozioni dell'udienza durata una trentina di minuti. Il Santo Padre ha carezzato il mio cuore, scrive Paolo Borrometi, sapeva tutto, io raccontavo la mia esperienza di vita e lui anticipava completandola. Aveva letto quelle drammatiche intercettazioni in cui i boss di Pachino poche settimane fa dettagliavano il piano dell'attentato per far saltare me ed i ragazzi della mia scorta in aria. Il Papa, racconta ancora il giornalista, è stato molto duro solo in un momento quando mi ha detto che i mafiosi si dicono cristiani, di cristiano non hanno nulla. Paolo Borrometi vive da alcuni anni sotto scorta dopo aver ricevuto varie minacce in seguito alle inchieste pubblicate sul sito online La Spia. L'ultimo grave episodio si riferisce ad alcune intercettazioni telefoniche che avrebbero rivelato la pianificazione di un attentato organizzato dalla criminalità organizzata nel Siracusano.